Per essere dei validi comunicatori oggi occorre avere un fisico per convincere, un carattere per durare, uno stile per sedurre, ma soprattutto bisogna essere profondi conoscitori di quello che andiamo a raccontare. Sono Ilaria Legato e faccio parte del comitato scientifico insieme a Davide Paolini del Master in Cultura Gastronomica e Ospitalità, edito dalla Scuola Tessieri. Un percorso di alta specializzazione in nove tappe per tutti coloro che già lavorano in questo settore o per coloro che vorrebbero entrare in questo magico mondo della gastronomia e vorrebbero implementare sempre di più la loro conoscenza, le loro conoscenze in questo ambito. Il Master, fatto di nove incontri con nove super professionisti esperti, ciascuno in un prodotto gastronomico italiano, è fatto per riuscire a implementare, seguiti da me e Davide passo dopo passo, le vostre capacità di narrazione, ma soprattutto le vostre capacità di conoscere sempre di più i prodotti per riuscire a vostra volta a raccontarli all'interno del vostro lavoro, per riuscire a creare una relazione sempre più stretta, sempre più forte con il vostro pubblico di riferimento.